Proclama del Capo del Governo, parla Sua Eccellenza il Maresciallo Pietro Badaglia. Il Governo italiano, riconosciuto la impossibilità di continuare la imparilotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi fiature alla nazione, ha chiesto un armistizio al Generale Eisenhower. Io non so perché mi chiedi queste cose che sono del tutto personali, io mi sono comportato secondo gli ordini che ricevevo e basta. I militari non hanno funzioni politiche, lei mi sta chiedendo delle cose che sono di comportamento extra militare. Io non mi sono trovato bene nell'esercito, armavo il mio mestiere. Come impegno sicuramente quello di Capitano, il grado di Capitano è il grado più impegnativo di qualsiasi esercito. Io il Capitano ho fatto parecchi anni, quindi mi sono sempre trovato a dover svolgere attività intensissime, addestrative, operative a tutti i livelli, molte volte anche a livello superiore al grado che rivestivo, pur non avendo il grado superiore, però avevo le funzioni al grado superiore, però quello è stato. Paradoxically, peace is a cause worth fighting for. Il suo paese è stato davvero devastato e l'Italiano necessita nulla esplorazione per il vero significato della guerra, e ancora oggi i servizi italiani rinforzati sono fatti di uccidere e di morale risoluzioni. Eravamo degli ottimi membri della Nato, la Nato mi risulti non sono mai la metà degli italiani. In navi, army and air force, each is well trained and skilled to his trade. And backing the Italian serving man is all his country's classic experience in things mechanical. Era un esercito efficiente, non è che non lo fosse, tutto si può migliorare o no. Punti forti e punti deboli, ma sono tutte cose che non si possono dire così. e dipendeva dai reparti, dai comandanti, dei vari reparti. As one who has suffered from war as much as most, the Italian soldier knows only too well that peace is well worth struggling for. But though ready in plane, ship or tank, each hopes and prays that the need for their use may never arise. Siule Cristo Destiny Abra 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 Non so, c'è mio figlio dentro adesso, io non so l'efficienza attuale, non la giudico. Bravo, avanti! Ma che idea si sono fatte. Evidentemente, nonostante tutta l'enfasi e tutta la retorica liberatoria, è resistenziale. Noi per gli inglesi siamo sempre stati dei traditori, noi siamo coloro che hanno tradito l'alleato e hanno cambiato nemico, guerra durante. Tant'è vero che gli inglesi avevano coniato una frase, un verbo, che voleva dire tradire ed era tu badogliare. Quindi questo le dice già tutto. Ora, questa scarsa affidabilità, diciamo, da parte nostra, questa è sempre esistita e forse esiste ancora oggi. Noi siamo sempre stati considerati inaffidabili, insomma, come alleati. Infatti noi non abbiamo mai avuto compiti importanti, a noi addirittura certe cose non venivano nemmeno dette, insomma, quando volevano essere sicuri della segretezza al cento per cento di una cosa, di un argomento, a noi non veniva nemmeno riferito. E io le manovre ne ho fatte tante, ma non ho fatto manovre nato, quelle no. Anche perché gli unici reparti, anzi l'unico reparti italiano che ha partecipato a manovre nato è stato quel famoso battaglione, avevo trasportato degli alpini, il battaglione sura, e bah, tant'era altro, che partecipava a un manovre nato che di solito le facevano nel nord, Norvegia, Svezia, e cose del genere, insomma. Perché allora, con la guerra fredda, l'obiettivo era sempre la Russia, insomma, si pensava l'unico nemico che poteva esserci era guerra. Patriots anywhere point to a national past with pride. In this city the people do not have to point, for their proud past is ever above them. From this city came a people destined to rule the world by their vitality, the strength of their arms, and their sense of justice. The letters SPQR on this bus are the very same that mocked the banners the Roman conquerors carried to the very rim of their vast and ever-expanding empire.